Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi io volevo parlarvi di una serie tv e anche consigliarvela se non l'avete ancora vista. Sappiamo che questo è un periodo molto delicato e quando si parla di film e serie tv al giorno d'oggi non bisogna scartare tutto quanto come tema fantascientifico, bisogna ragionarci su. Questa serie ragazzi mi ha fatto molto ragionare non solo su quella che è la situazione che purtroppo ci affligge tutti quanti in tutto il mondo, ma mi ha fatto anche riflettere su quelle che potrebbero essere le possibili mosse future da parte del governo, o meglio sì, del governo mondiale che comprende praticamente tutti i governi. La serie in questione si chiama La Barriera È una serie spagnola del 2020 che conta attualmente solo una stagione. Io spero che possano andare avanti. Spero che in un certo senso possa uscire anche una seconda stagione, anche perché la tematica che viene lì trattata è assolutamente molto molto interessante. Sì inquietante, ma anche interessante. Tra l'altro ho notato molte similitudini, molte cose che potrei ricollegare a quella che è la situazione in cui ci ritroviamo a vivere. Ma la serie tv, a parte questa serie tv La Barriera, a parte farmi riflettere su quello che sta accadendo anche oggi nel mondo, mi ha fatto anche riflettere su quelle che potrebbero essere le possibili mosse future da parte del governo mondiale, che sappiamo comprende tutti i governi. Allora, vi spiego un po' la trama di questa serie. Ci sarà giusto uno spoilerino, ma niente di che, non è che questo spoiler vi potrà impedire di guardare questa serie, perché penso che dalla trama potrà interessare a molti. Allora, ci troviamo nel 2045. Siamo nel post-terzo conflitto mondiale. La storia è ambientata in Spagna, precisamente a Madrid, e diciamo che a causa di questo conflitto e anche della venuta di questo virus, purtroppo la democrazia è stata sostituita da una dittatura a tutti gli effetti. Una dittatura che giustifica le limitazioni dicendo che sì, vivete in modo limitato, sì, non potete accedere più a determinate cose, siete perennemente sorvegliati, questo perché noi vogliamo tutelare l'umanità. Quindi, la presa di tutti quanti i diritti fondamentali, di tutte le libertà, l'annullamento di tutti i diritti, di tutte le libertà, vengono giustificati con il fatto che devono proteggere, devono proteggere l'umanità. Un po' quello che sta accadendo anche oggi, no? Ci dicono, insomma, se volete lavorare dovete fare questo, se volete fare quello dovete... Insomma, non ci danno margine di scelta, ci dicono che bisogna fare quello che loro ordinano di fare. E tra l'altro giustificano la cosa magari dicendoci lo dovete fare per gli altri, lo dovete fare per voi stessi, perché altrimenti non riusciremo più ad emergere, non riusciremo più a vedere un futuro. Insomma, loro sono dei geni nell'inventarsi delle scuse. E in questo film vediamo proprio questo. Vediamo una dittatura lampante e vediamo addirittura una Madrid suddivisa in due settori, il settore 1 e il settore 2. Questi settori sono divisi da una barriera. E nel settore 1 abbiamo comunque persone importanti, tra virgolette, come il presidente, i ministri, le loro famiglie, eccetera, eccetera, che comunque continuano a condurre una vita agiata in questi supervilloni, con tutto il cibo che vogliono, tutta la luce che vogliono. Insomma, vivono normalmente, come se di lì la guerra o comunque no, questo virus non avesse portato chissà quali cambiamenti. Nel settore 2, dall'altra parte della barriera invece troviamo il resto. Il resto dell'umanità, alcuni vivono in condizioni, diciamo, discrete, altri invece vivono nei garage, comunque in condizioni davvero, davvero estreme, nello sporco più totale. Insomma, la popolazione nel settore 2 è suddivisa un po' tra coloro che hanno, diciamo, un minimo di, no, di, anche, insomma, tra coloro che hanno una casa, un luogo in cui vivere, e coloro che invece non hanno veramente nulla e vivono per strada. E questo fattore emerge, emerge come in molti altri film, no, di stampo futuristico. Questa suddivisione tra ricchi, coloro che ricoprono una posizione e che quindi hanno il diritto, no, ad accedere a vari privilegi, e il resto della popolazione che invece non può fare niente, se non seguire le regole, perché altrimenti ci sono varie punizioni. Infatti, in questo regime totalmente dittatoriale e totalitario, se tu fai qualcosa contro il governo, o a danno del governo, tu vieni prelevato da una specie di polizia, che mi sembra proprio la psicopolizia di Orwell, infatti la serie è assolutamente di stampo orwelliano, e per tutta la durata di questi episodi, per tutta la durata della serie, a me è sempre tornato alla mente, 1984 di Orwell, e adesso vi spiegherò un po'. Quindi, se tu fai qualcosa contro il governo, ti vengono a prelevare questi poliziotti, che poi ti portano in determinati luoghi e ti torturano, fin quando tu non confessi, fin quando tu non dici quello che loro vogliono sapere. Un collegamento che io ho trovato tra questa serie e il 1984 di Orwell, vi ricordate in 1984 Winston Smith, il protagonista, quando cominciò a far parte di quel gruppo di ribelli, quando cominciò a incontrarsi con Giulia, ecco, lui nei suoi incontri con Giulia, pensava di non essere osservato, pensava finalmente di averla fatta franca, pensava di essere sfuggito al sistema, e quindi loro facevano tutte le loro cose, facevano tutte le loro cose con la convinzione di non essere osservati da nessuno, e invece, anche nei momenti in cui Winston Smith pensava di averla fatta franca, era sorvegliato dal sistema, era sorvegliato dall'occhio vigile del grande fratello e dagli scagnozzi, e infatti, poi alla fine del libro, Winston si accorgerà che anche nei momenti in cui lui credeva di essere finalmente riuscito a divenire un uomo libero nelle sue azioni, non lo era, semplicemente loro stavano aspettando il momento giusto per catturarlo e fargliela pagare. Questa tematica viene ripresa anche nella serie, perché anche nella serie i protagonisti, non voglio svelarvi tutto, insomma, però i protagonisti faranno delle cose, e ci sarà, insomma, si giungerà ad un punto in cui uno dei protagonisti crederà di aver ingannato la polizia, di aver ingannato le forze dell'ordine, il governo in generale, e invece i poliziotti e il governo conoscevano in realtà tutta la verità riguardo a questa persona. Quindi questo è proprio stampo orwegliano, questa particolarità dell'essere perennemente sorvegliati. Un altro tratto che mi ha fatto veramente, veramente tanto riflettere, è che la moglie di un ministro, precisamente del ministro della Sanità, lavorava nell'ambito del progresso scientifico, perché vi ho detto, ci troviamo nel 2045, nel post-terzo conflitto mondiale, purtroppo un'altra minaccia era costituita non soltanto dalla ripresa, no, e dai danni che questo conflitto aveva provocato, ma anche da questo virus che aveva cominciato comunque a diffondersi tra la gente. Loro non riescono, non riescono fino ad un punto a trovare un metodo per cercare di debellare questo virus, ma ad un certo punto questa donna, mostro, capisce che soprattutto nei bambini, e soprattutto in alcuni bambini, c'è qualcosa nel sangue che mescolato ad altre sostanze può dare la soluzione per debellare finalmente il virus. E ad un certo punto nel corso della serie, piccolo spoiler, si andrà ad assistere al rapimento di molti bini, che verranno chiusi in questa struttura, e a questi bambini puntualmente verranno fatti dei bini, e in base a queste iniezioni che vengono fatte ai bambini, loro riescono a stabilire se il soggetto è raro oppure no. Che ve lo dico a fare? Nel corso di queste sperimentazioni su questi poveri piccoli, molti di loro purtroppo perderanno la vita. E poi si parla soprattutto di una bambina in particolare, Marta, che è la bambina, figlia e nipoto, insomma, dei protagonisti, e insomma, lì capirete, capirete molto, io non è che vi ho spoilerato tutto, però c'è qualcosa nel sangue di questi bambini che lei vuole utilizzare per andare a creare quest'arma capace di debellare il virus. La cosa che mi sorprende, ma nemmeno tanto, di questa donna vostro è proprio la non curanza, perché tra l'altro lei, oltre ad essere moglie di questo ministro della salute, è anche mamma di due ragazzi, un ragazzo ed una ragazza. L'insensibilità di questa madre nei confronti dei figli degli altri è davvero disarmante, questa cosa vi farà oltre che molto incavolare e anche rabbrividire. Però, purtroppo, queste sono tematiche, come il rapimento, che noi ritroviamo anche in questa società, quindi le cose non ci devono sorprendere. E ripeto, questa serie, per quanto mi riguarda, va a toccare dei punti di vitale importanza che andrebbero compresi ad oggi per cambiare il domani, perché se qua non ci muoviamo, purtroppo la realtà che ci ritroveremo a vivere tra qualche anno sarà proprio la realtà che si vede nella serie TV La Barriera. Assolutamente. Tra l'altro, realtà che non viene rappresentata e narrata solo in questa serie TV, ma in altri, non so quanti, film futuristici, distopici che il cinema ci ha proposto. Quindi, io vi consiglio assolutamente di guardare questa serie. Tra l'altro, un aspetto veramente, veramente molto, molto forte è questa dittatura, questa dittatura che si percepisce. Addirittura il settore 2, quindi il settore occupato dalle persone che non hanno privilegi, dalle persone che, insomma, fanno parte del resto della popolazione, hanno dei limiti proprio nella quotidianità, nel senso che devono rientrare in casa entro una certa ora e addirittura ad un certo punto verso sera viene loro tolta la luce perché, giustamente, bisogna risparmiare. Ma non è che questi grandi cialtroni risparmiano sulla propria pelle per agevolare o alleggerire la vita del popolo? No, vanno comunque a, no, vanno comunque a fare ulteriori brutalità alle persone che già sono sconvolte, che già vivono comunque in condizioni veramente, veramente di disagio puro. Quindi viene loro levata la luce e addirittura in ogni condominio o appartamento ci sono le cosiddette spie dello Stato dichiarate. E infatti io ho provato una rabbia assurda verso una donna che appunto abita nello stesso condominio dei protagonisti e che ad ogni, ad ogni alzatina di voce, ad ogni battito di ciglia suonerà alla porta dei protagonisti per chiedere cosa è successo, cosa è successo e lei ha il compito di origliare, di spiare, di chiamare e contattare la polizia nel momento in cui vede, nel momento in cui si accorge che qualcosa non va. Tra l'altro un aspetto anche molto importante che fa riflettere è che troviamo comunque in questa serie una popolazione priva di qualsiasi cellulare nel settore 2, perché poi nel settore 1 quello abitato dai ministri, presidente, famiglie lì hanno il cellulare, vi ripeto nel settore 1 la vita va avanti come se nulla fosse accaduto mentre nel settore 2 non troviamo più nulla di tutto questo addirittura non si può sentire la musica ci sono una serie di divieti veramente fuori di testa e il governo giustifica tutto questo dicendo il futuro è nostro e per portare avanti l'umanità bisogna necessariamente vivere nel limite è solo che fanno vivere nel limite gli altri, non loro stessi io vi consiglio di guardare questa serie ripeto si chiama La Barriera ed è ambientata nella Madrid del 2045 è molto molto interessante ragazzi veramente molto molto interessante spero che insomma si mettano a produrre anche la seconda stagione perché per quanto mi riguarda potrebbero anche uscire e trattare nella seconda stagione temi che magari sono rimasti un po' così col punto interrogativo è una serie che vi farà veramente riflettere tantissimo su quella che potrebbe essere la società futura nella realtà nella realtà che è una cosa di vitale importanza a comprendere per cercare di modificare perché altrimenti ragazzi si andrà di male in peggio fatemi sapere innanzitutto se avete guardato questa serie se non l'avete guardata io vi consiglio di guardarla poi ovviamente sta a voi decidere ovviamente ovviamente non dovete fare nulla in modo forzato intanto io vi auguro un buon proseguimento di giornata o serata e vi do appuntamento al prossimo video un abbraccio forte forte a tutti